E' tempo di fragole, ora cominciano ad essere belle mature. Io qui davanti a casa ce n'ho qualche pianta, non molte, anche perché qui c'è un notevole transito di lumache le quali mangiano. Comunque, è anche un bel vedere i prodotti della natura, guardate comunque come sono, che dimensioni hanno, sembrano quasi coltivate. Ce ne sono poi da diverse altre parti, qui vi ho fatto vedere semplicemente quelle che sono più vicine. Ora ne colgo qualcuna, queste sono le fravoline di bosco, quelle più buone, le più saporite. Questo è un ottimo risveglio.